Tutti parlano del bisogno alimentare, tutti parlano dell'emergenza freddo che sono esigenze importanti, l'emergenza più importante è l'emergenza sanitaria, l'alcolismo è la piaga che sta colpendo un po' tutti, gli ultimi morti sono morti di alcolismo, gli ultimi ricoverati sono alcolisti e quindi da questo punto di vista un'azione sinergica sarebbe importante, fondamentale.